A Monta 4.000 euro il bottino della rapina messa a segno ieri sera all'Eurospin di Vittoria. Erano le 20.30 quando tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno fatto eruzione nel supermercato sito all'ingresso di Vittoria o sull'ex strada provinciale Vittoria Scoglietti. Si sono presentati all'orario di chiusura, alla cassa, armati di tutto punto ed intimato i cassieri di farsi consegnare quanto contenuto nei registratori di cassa. Momente di puro panico, vissuti non solo dai dipendenti del punto vendita ma anche dai clienti presenti alla cassa, un 5-6 proprio all'atto della rapina. Dopo essersi fatti consegnare il bottino si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vittoria e la polizia del locale commissariato per gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che ad agire siano stati proprio tre uomini a volto coperto. Si pensa possono essere italiani e non stranieri, tutti armati di pistola. Dopo aver preso il bottino i tre si sono dati alla fuga senza lasciare tracce e su quanto accaduto stanno indagando i militari dell'arma.